Musica Oramai è assodato che l'alimentazione svolga un ruolo fondamentale nella vita presente e per quella futura, essendo un nostro strumento quotidiano di prevenzione primaria. Per questo motivo la Società Italiana di Nutrizione Umana ha stabilito delle linee guida sui nostri fabbisogni di energia e di macro e micronutrienti, tenendo conto anche dell'età, del sesso e dell'attività fisica. E la nostra dieta mediterranea è un esempio concreto del rispetto di tali linee guida. Esistono poi altri stili alimentari altrettanto validi però. Il vegetarianesimo, adottato da molti consapermovamente come scelta di salute o etica nei confronti di animali e ambiente, da altri oggi è visto quasi come una tendenza, una moda, anche nella sua forma più radicale che è il veganesimo. Sul tema circola ancora molta disinformazione sia da parte di chi lo pratica sia da chi lo osteggia. Non basta astenersi infatti dal mangiare carne e pesce o da tutti i derivati animali per dire di mangiare sano. I nostri fabbisogni vanno rispettati. È importante che si conoscano bene le proprietà e i valori nutrizionali del cibo per utilizzarlo al meglio all'insegno di un'alimentazione bilanciata. Con una dieta vegetariana è più semplice non incorre in carenze, ma si possono comunque fare errori come eccedere nei carboidrati o nei latticini. Per contro, in una dieta vegana è necessaria verso la supplementazione di vitamina B12 con degli integratori o con alimenti fortificati. È necessario dunque che tale scelta dietetica abbia delle solide basi di corrette informazioni e di giusta prudenza, soprattutto quando si applica all'alimentazione dei bambini.